Musica Musica Benvenuti in studio per una nuova puntata di Bocce Forum e diamo subito il benvenuto al nostro ospite di oggi, Bruno Casarini, benvenuto. Grazie. Presidente CERRA, Confederazione Europea Raffa, e infatti oggi iniziamo parlando proprio di Europa. Allarghiamo un po' i nostri confini, usciamo dalla provincia di Varese ma proprio anche dalla nostra nazione. Iniziamo parlando dei campionati femminili europei che si sono svolti però vicino a noi, a Sondrio, lo scorso settembre dal 17 al 22. Iniziamo dunque parlando di questa importante gara, di questa importante manifestazione. Sì, in effetti quest'anno, 2018, è stato un anno particolarmente felice per quanto riguarda i campionati europei perché abbiamo avuto in agosto i campionati europei juniores a Karamazan in Turchia e tra l'altro l'Italia ha vinto un titolo individuale, mentre quella squadra è stata vinta dalla Turchia proprio per dimostrare come è lo sviluppo, come ci sia anche in Europa lo sviluppo di questo nostro sport che ha ovviamente da noi delle forti tradizioni. E poi abbiamo proseguito con questi campionati europei femminili a Sondrio dove l'Italia lì ha fatto man bassa dei titoli perché ha vinto l'individuale juniores under 23 e poi ha vinto quello a squadra e ha vinto il seniors individuale, quindi ha vinto tutti e tre i titoli europei. Ed appunto siete già al lavoro anche per i prossimi campionati europei, giusto? Eh beh, sicuramente, non possiamo mica fermarci. A livello europeo abbiamo l'intenzione nel 2019 di fare addirittura due campionati europei. Un campionato europeo juniores che si dovrebbe svolgere in Germania, mentre proprio una notizia fresca di oggi la conferma dei campionati seniors che dovrebbero svolgersi in Austria dal 10 di settembre al 17 di settembre del 2019. Bello poter appunto ampliare un po' il nostro sguardo, parlare non soltanto dell'Italia, anche perché da subito, in maniera curiosa, mi viene da chiederle come venga visto il gioco delle bocce all'estero. Spesso parliamo del fatto che in Italia spesso venga associato agli anziani, quindi non si pensi ad uno sport per tutti. Cosa avviene invece fuori dai confini nazionali? Beh, abbiamo due modi di vedere lo sport delle bocce. Nel senso che in Italia, come dicevo prima, ha una forte tradizione e è sempre stato visto come uno sport che coniuga bene quello che è lo sport in sé, cioè l'agonismo, la voglia di vincere, di arrivare al primo posto, e l'altra parte che è quella del sociale. Quindi noi abbiamo sempre coniugato queste due anime. All'estero invece è visto come sport e quindi effettivamente è una disciplina e come tale ovviamente non ha la massa che possiamo avere noi, non ha i centomila iscritti alla federazione come può avere la federazione italiana bocce, ma ne ha molti meno, però questi sono agonisti e sono veramente, tutte le volte che gareggiano, gareggiano con la voglia di vincere e con lo spirito proprio dallo sport, insomma. Questo è il concetto differente tra l'estero e l'Italia in modo particolare. Mi viene da pensare dunque che vi siano anche più giovani oltre che più donne. Quindi insomma che i giovani si avvicinino a questa attività. Sicuramente i giovani si avvicinino. Ovviamente quando facciamo riferimento alle nazioni, noi per esempio a Sondrio abbiamo avuto dieci nazioni presenti, però se avessimo fatto il campionato Signores ne avremmo avuto 17 o 18 presenti. Perché? Perché si sta sviluppando questo nostro porto anche in nazioni dove effettivamente anche nel settore femminile non le avevamo presenti a Sondrio. Sto parlando, non lo so, della Polonia, sto parlando della Bulgaria, sto parlando dell'Ucraina, sto parlando della Cecchia, sto parlando della stessa Francia, dove diciamo è la culla delle bocce, però delle bocce di ferro, della petanque. Cioè un'altra specialità delle bocce che fa parte nel contesto dello sport delle bocce in generale, ma che è una specialità particolare dove anche in Italia si sviluppa in modo particolare, in Piemonte, voglio dire, e in Liguria. Sarebbe sicuramente utile parlarne un po' di più di questa disciplina all'estero, proprio perché magari aiuterebbe a sfatare l'idea che le bocce siano soltanto appunto un'attività non particolarmente sportiva e agonistica, ma più legata al divertimento di una fascia di età, diciamo, anziana. Sì, no, ma infatti è importante parlarne, ma soprattutto è importante per quanto riguarda le nazioni estere che ci stanno guardando perché stanno pensando anche loro di unire, ci stanno un po' copiando, perché la nostra federazione poi oggi più che mai con la nuova governance e con la voglia del nostro Presidente De Santis di impostare anche per quanto riguarda l'aspetto della disabilità, quindi la nostra federazione sta puntando forte anche su questo aspetto, quindi giovani, femminile, signores e disabilità, quindi accordi col CIP, e sta puntando molto per far sì che si sviluppi un'attività che sia congeniale a tutte queste quattro fasce. Ecco, e all'estero noi stiamo facendo un po', tra virgolette, da maestri, per dirgli qual è stato il nostro percorso, qual è il nostro percorso, quali sono i nostri obiettivi. Assolutamente, insomma abbiamo parlato di Europa, in realtà ricordiamo che lei fa anche parte del Comitato Mondiale, quindi Comitato Confederazione Mondiale, Raffa, quindi appunto si parla di Europa, di altri paesi, anche a livello mondiale, internazionale, le bocce insomma vengono praticate come sport ovunque. Sì, sì, questo sicuramente. Ecco, io devo dire che abbiamo fatto alcuni anni nel passato troppo fermi, oggi questa nuova governance, sia l'italiana che è di sprone a queste modifiche che si stanno attuando nel nostro sport, e sia a livello mondiale dove è stata modificata la governance completamente, dove tra l'altro abbiamo il nostro vicepresidente vicario nazionale che è Moreno Rosati, che è diventato anche vicepresidente della Confederazione Mondiale, si sta lavorando proprio per cercare di cogliere tutte le novità e gli aspetti che ci possono aiutare in un percorso, in un obiettivo che non può essere altro che le Olimpiadi del 2024. Certo, certo, infatti torneremo sicuramente a parlare anche di quello, mi soffermo per un attimo su quello che diceva prima, l'importanza di coinvolgere i giovani per poi arrivare anche alla disabilità, eccetera. Quindi più volte, l'abbiamo detto, fondamentale entrare nelle scuole, quindi cercare di coinvolgere da subito anche i bambini, avvicinandoli quindi al mondo delle bocce, facendo capire loro che può essere a tu cura un'attività sportiva. Sì, sotto questo aspetto c'è un grosso investimento da parte della Federazione Italiana. Diciamo che c'è sempre stato, però a differenza del passato, dove si ponevano alcuni obiettivi che erano comunque il numero dei tesserati, l'ampliamento e così, oggi al di là di questo c'è un forte stimolo per quanto riguarda i dirigenti della nostra Federazione di lavorare sui giovani, sui femminili in modo particolare, sulla disabilità. Proprio la Federazione sotto questo aspetto fa un grande investimento e dà delle indicazioni. Noi oggi siamo nelle scuole, abbiamo un progetto scuola, dove praticamente attraverso i tutor regionali e attraverso le commissioni regionali sviluppiamo questo percorso, così come lo sviluppiamo nel settore femminile e nel settore della disabilità. Ecco, quindi abbiamo davanti una molle di lavoro enorme, dobbiamo crederci e è importante per quanto riguarda i dirigenti credere nel messaggio, credere nell'impostazione che abbiamo perché altrimenti tutto diventa monco. Ecco, noi, la Federazione è basata anche su un grande volontariato, questo lo è sempre stato e quindi sulla base di questo noi dobbiamo avere degli obiettivi per avere un percorso e ovviamente seguirlo al di là delle polemiche che sempre possono nascere, ma anche le novità che vengono introdotte dobbiamo crederci e svilupparle senza avere il timore dalle volte di fare qualche passo indietro qualche passo avanti, è naturale, quando si fa qualcosa di nuovo si può incorrere anche in modifiche e qualche passettino indietro lo si può anche fare, secondo me è indice di intelligenza. Assolutamente, assolutamente. Oltretutto, lei mi diceva, si investe molto per il settore femminile, meno male, dato che appunto le ragazze di Varese hanno appena proprio dimostrato la loro bravura, quindi sono campionesse d'Italia, per noi motivo ovviamente di orgoglio, le abbiamo avute qui proprio nelle scorse settimane, quindi insomma le donne dimostrano di saper giocare, di saper giocare molto bene. E infatti il nostro obiettivo è di coinvolgere le donne non solo a giocare, ma anche a fare in modo che siano all'interno dei gruppi dirigenti, dei nostri comitati, perché sviluppino maggiormente questa attività nel settore femminile. È una cosa importante perché, insomma, spesso e volentieri l'occhio della donna ci aiuta molto a riflettere, ci aiuta molto a raggiungere quegli obiettivi che altrimenti ci avrebbero molto più difficili da raggiungere, specialmente nel settore femminile e nel settore anche dei giovani. Quindi possiamo dire che il cambiamento è iniziato, piccoli passetti, però... Sì, il cambiamento è iniziato e devo dire che è iniziato con un grande entusiasmo anche dai quadri nazionali, dalla Federazione Nazionale, cominciando dal suo Presidente. C'è un grande entusiasmo, una grande voglia di fare e quindi questo dovrebbe essere di stimolo per tutti i dirigenti che ci sono sul territorio. Assolutamente. Lo dicevamo prima, bisogna parlare anche di Olimpiadi, il tempo per lo stringere, quindi lo faremo sicuramente nella prossima puntata, perché lo possiamo già anticipare, sarà ancora ospite, quindi sarà ancora qui insieme a me in studio. Io intanto la ringrazio per questa chiacchierata e invitiamo i nostri telespettatori a continuare a seguirci venerdì prossimo, come sempre, 21.15, Bocce Forum. Grazie, un saluto a tutti i telespettatori. Grazie mille, grazie, alla prossima puntata, arrivederci. Grazie a tutti i telespettatori.